ciao ragazzi come state allora andiamo a vedere cosa succede così vediamo cosa succede è una domanda un po trabocchetto nel senso che vediamo che cosa dicono le carte che cosa vogliono dirci riguardo a cosa succede ok allora due varianti prima seconda la carta più piccola la carta più grande questo è un osho zen questo è un oracolo dall'oracolo risponde ok quindi vi faccio scegliere in maniera ovviamente sempre intuitiva che è molto importante e poi direi che possiamo partire prima variante cosa succede lasciarsi andare allora chi ha scelto la prima variante è invitata a lasciarsi andare ok o magari lo stascia facendo qui c'è un lasciarsi andare che è una come ripeto un'esortazione potrebbe essere un'esortazione oppure potrebbe essere che finalmente vi lasciate andare in qualcosa ok andiamo a vedere con gli archetipi che sono poi tra occhi e andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire ancora rispetto a questo lasciarsi andare allora orizzontale due di copia orizzontale la stella orizzontale mamma mia sei di bastoni e regina di spade al contrario sono chiarissime aspetta un po ecco qua prima variante sono chiarissime devi assolutamente lasciarti andare perché qui c'è un per molti potrebbe essere un desiderio sentimentale che sta per avverarsi ok e devi vedi devi proprio far sì che questa energia della regina di spade e si capovolga cioè devi lasciarti andare quindi devi proprio e eliminare quelle che sono le tue difese ok perché qui se ti lasci andare prima variante c'è qualcosa di molto grande per te che potrebbe essere per alcuni ripeto un desiderio sentimentale che si avvera ok per altri comunque riguarda sempre gli affetti o comunque un'armonia con le persone con cui avete a che fare che però qualsiasi tipo di persone siano sono complici di questo bellissimo diciamo guarigione desiderio o sogno che si avvera ok quindi mi raccomando questo è il momento di lasciarsi andare ecco perché sono orizzontali perché siete a metà di questa di questo lasciarvi andare ok non siete a non siete non siete non sono delle carte al contrario completamente quindi è già positivo ok state capendo probabilmente che siete stati troppo chiusi siete stati troppo sulle difensive ok quindi che cosa succede 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 che se vi lasciate andare al bello se vi aprite c'è una c'è qualcosa di molto bello per voi che ripeto può essere che sia per alcuni un desiderio l'amore proprio un desiderio sentimentale che si avvera che si avvera che è il vostro sogno può essere una guarigione anche dal punto di vista emotivo ok riguardo a certe situazioni e quindi ritrovare l'armonia con le persone che avete attorno a voi ripeto qualsiasi cosa sia riguardo sempre comunque gli affetti all'armonia gli ai sentimenti lasciatevi andare perché c'è qualcosa di bello per voi ci dovete credere ok ci dovete credere il fatto che la regina di spada sia al contrario vuol dire che abbatterete le vostre difese perché non potrete fare altrimenti mi viene da dire ok quindi è molto bella questa stesa per voi prima variante assolutamente molto bella dovete però lasciarvi andare ok vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video seconda variante abbiamo tra due mondi al contrario allora tra due mondi è una carta ve la faccio vedere al dritto prima così la capite vedete c'è il bianco e nero e poi c'è il fenicottero in bianco e nero con tutta la parte in bianco e nero poi c'è il fenicottero rosa con la parte in azzurro ok vuol dire che se fosse al dritto questa carta significherebbe che siete in un momento di transizione tra due mondi no tra un passato e un futuro ok siete a metà la carta al contrario mi potrebbe far pensare seconda variante che o non vuoi fare il passo per arrivare al lato opposto quello a colori o non vuoi o non puoi o non riesci ok mi viene da dire che c'è qualcosa che sta un po rallentando questo passaggio sì allora andiamo a vedere con i tarocchi abbiamo i sei di bastoni orizzontale queste sono sono praticamente verticali così il sole al contrario il nove di spade al contrario il nove di denari al contrario vedete allora sono uscite al contrario allora qui per voi c'è c'è il sole per voi c'è il benessere c'è lo star bene c'è le pre ci sono le preoccupazioni al contrario c'è il nove di spade al contrario c'è vuol dire che le vostre preoccupazioni spariranno le vostre ansie spariranno però sono al contrario c'è il sei di bastoni orizzontale sei di bastoni una carta di riuscita di successo no e quindi è a metà non è né al dritto ma neanche al contrario quindi sareste a buon punto mi viene da dire ma ci sono delle energie il sole e anche il nove di denari sono al contrario fatemi un attimo chiarire questo solo al contrario che qui voglio vedere un po di più allora io credo che credo che alcuni di voi per fare il salto per o crederci diciamo di più no per far passare da questo mondo un po in bianco e nero a questo mondo a colori credo che dobbiate uscire da una solitudine un po forzata voluta è perché l'eremita è colui che si isola volontariamente no però io credo che sia il momento di guardarvi attorno no e vedere che ci sono tante opportunità tante possibilità cioè la strada per voi è spianata perché comunque abbiamo comunque il sole e nove di denari sono al contrario ma ci sono ok quindi è come che vi dica guarda guarda bene perché noi siamo al contrario però noi ci siamo quindi è come che è un po abbastanza è un po in sintonia anche un po con la prima variante perché la prima variante parlava di lasciarsi andare no qui magari non è proprio così però anche qui mi viene da dirvi o di crederci di più o comunque oppure di cominciare accogliere delle opportunità delle ciò che vi viene vi viene davanti no e uscire un po magari da una l'eremita è colui che valuta molto pondera molto ecco in questo caso non ponderate troppo cioè cominciate a muovermi cominciate a muovere le energie ecco mi verrebbe da dire ok in modo da sbloccare questo sole al contrario questo nove di denari al contrario perché il successo per voi c'è la riuscita c'è il sole c'è ok e quindi questo passaggio tra due monti da un passato a un futuro più rosio c'è assolutamente ok dipende un po da voi dipende un po da voi da come vi approcciate al mondo esterno e da quindi da un vostro atteggiamento interiore ovviamente ok seconda variante allora io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao